Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Quest'oggi continua la saga di Overcooked 2, la co-op con la special guest Pookie Pookie. Buona visione. Aspetta, cambia chef. Prenditi il cioccolato. Prenditi lo cioccolato! Cosa vuol dire? Non lo so. Io prendo la scimmietta. Ok. Bevo un po' di acqua. Ok, questo non è difficile, dai. Allora, uovo e farina. Uovo e farina, allora. Tanti astri. Devi girare questo coso qua, ecco, brava. Qua c'è la farina, vedi? Dov'è il fruratore? L'uovo non ci devo fare. Occhio perché si rigirano di nuovo. Farina. Però non me la prende. Devo capire. Però non me la prende. Farina. Mi servono le uova. Sì. Ok. Ok, porto l'uovo. No, doppio uovo però. Ok, uovo. Miele e taupe. Un altro uovo mi serve. Sì, arrivo. Ma che dai. Un miele. Qua. E questo lo mettiamo in padella, eh? Mettilo qua l'uovo. Questo è in padella. Dov'è la padella, taupe? Ah. In padella, eh? No, prima la devi... Prima? È già stato frullato, eh? Allora, padella. Ah, forno, forno. Forno. No. Sì, quella è forno, quella è forno. Questa è padella. Questo, questo. Come l'esto, come l'ascia. Sì. Allora. Dove sono i piatti in tutto ciò? Ma... Dove sono i piatti? Ah, qua. Sono nello stesso cuore del bancone. Aia! Ok, questo uovo e farina... Ce l'hai già. Mi sono confuso, no? Perché i piatti sono nello stesso cuore del bancone? Qua sono. E qua c'è un altro piatto, taupe. Non li vedo. Aspetta, a me mi stai facendo perdere le farine. Allora, aspetta, aspetta. Mi sono qua. Allora, uno e due. Ma dov'è la ciotola? Qua. Ah, ecco. Allora, uno e due. Mi serve un cioccolato e il miele. Però questo qua lo devi girare, perché deve passare questo. C'è nessun cioccolato. Il cioccolato adesso arriva di qua. Esatto. Facciamo così, tagliamo sempre questa roba perché ci serve. Prendo io, prendo io. Stai a tagliare. Miele. Ok. E cioccolato. Ok. Frullato. L'altro invece ci vuole solo il cioccolato. Ok. Questo miele lo prendiamo, lo mettiamo qua e lo taglio. Allora, io provo i piatti. Ah, c'è il cioccolato. Questo va qua. Questo in forno. Forno, forno. Questo in padella. Poi cioccolato. Ok, mi serve... Farina. Dov'è l'altra? Ah, è in forno. Farina. E cioccolato. Un uovo. Padella. Ok, dai. Si può fare, perché abbiamo fatto schifo, però abbiamo fatto 3.22. Si può fare, si può fare. Allora. Subito pulsante. Allora, subito pulsante. Tu ti fai le tue cose. Mi faccio la uova. Si, si. Tu fai uova. Io prendo già subito la farina. E la metto dentro qua. Uovi. E prendo uno di questo. Uovi. Ah, perché quando tu mi premi mi sposti. Ok, ho capito adesso com'è la situazione. E mi prendo già subito un cioccolato. Uno di questo. Questo lo tolgo. Quello lo puoi vedere. Questo è in padella. Guarda, guarda. Vabbè. Via. Miele. Questo. Uovo. Ok. Questo lo mettiamo qua. Ti attingi. Ok. Questo è uovo. Vai. Questo cos'è? Ah, forno. Questo? Cosa ci manca? Il cioccolato. Non so. Ti cazzo. Cioccolato. Mi serve un miele. Prima pulsante. Miele. Via. Poi prendiamo... Brava. Così prendo sti mieli qua. Che ci servono uno. Prendo anche il cioccolato. Miele. Cioccolato. Così prepariamo la roba. Via. Ok. Faccio io qua. Sì. Sì. Ok. Eh, ma perché hai i frullatori, quindi... No, ma solo per due secondi. Non so. Ok, allora qua... Questo va in forno. Qua ci manca il cioccolato. Ok. Prendo un altro miele. Questo va? Eh, padella. Questa. Perché ci vuole? Ah... Qua di sicuro. Ok. Farina. Farina. Occhio alla padella. Uno c'ha il cioccolato. E uno c'ha il miele. Quindi uno... Allora, miele va in forno. Cioccolato in padella. Cioccolato in padella. Questo va in forno. Poi. Uovo. Cioccolato in padella, eh? Uovo in padella. Uovo in padella, vabbè. Uovo in padella. Questo lo salvo. Questo pure. E lavo i piatti. Dove sono i piatti da lavare? Allora. Faccio io questo. Ah, vai, fai tu. Faccio io questo. Vai in padella. Questo va in padella. Dai. Poi. Ehm... Mi serve un uovo. Lo prendo io. No, non ce la faccio. Vai, 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 vai. Ok, va, va, finito. L'avevo spaccato. Si, si, di brutto. Yeah. Ehm... Ma, va, va, va.